Cari amici, eccoci qua per l'ultimo appuntamento di questa lunga serie iniziata il 9 di marzo. Sono stati con noi 52 campioni e oggi ne abbiamo due con i quali chiudiamo questa prima serie e poi torneremo insieme. Abbiamo detto finita la fase 1 del lockdown ci fermeremo, così facciamo e torneremo nel prossimo weekend. Oggi chiudiamo alla grandissima con due straordinari palleggiatori che hanno scritto alcune delle pagine più importanti nella storia non solo della pallavolo ma dello sport. Da prima è qui. Sono molto contento di fare due chiacchiere con la mia cara amica Maurizia Cacciatori. Ciao Mau, come stai? Ciao grande Lorenzo, è un piacere grandissimo rivederti anche se ho seguito quasi tutte le tue dirette. Quindi bene, sto bene, dai tra virgolette, perché noi siamo nell'emergenza nell'emergenza, perché in casa con due bambini è davvero tosta. Però i miei bimbi non mollano, anzi dopo ti vogliono salutare, mi dai l'autorizzazione perché c'è stato un dibattito in casa. No, io sono felicissimo di questo perché sai che sono, visto che ti ho visto spesso che ci salutavi, che facciamo ruota libera, non ci siamo detti niente e quello che uscirà, uscirà. Tra l'altro ricordo che dopo è arrivata la Gantravizza, perciò chiudiamo con due grandi palleggiatori. Ti faccio vedere un po' di immagini che ho preparato che ti riguardano Mau. La prima è abbastanza banale, devo dire, poi ce ne saranno altre non banali. Allora, la prima è la cacciatore pallavolista. È un lontano ricordo ormai della tua vita, Mau? Ma guarda, direi di no, perché ogni giorno si parla di pallavolo per un motivo o per l'altro. A me mi fa sempre piacere. Quindi comunque mantengo sempre vivo il pensiero e insomma il mio mondo. Dai, se non ci sei di casa così presto, è vent'anni, forse anche di più. Non so neanche perché io non conto gli anni, non conto nulla. Però mi sembra di non aver mai smesso perché comunque anche lavorando sempre nell'ambito sportivo non sei mai andata via. Allora, io conosco la Mau da quando ero una bambina e adesso vi confesserò che la prima volta che, lei lo sa ovviamente perché è stata protagonista, la prima volta che la volevo intervistare è scappata via. Sì, perché io comunque ho sempre odiato i giornalisti, almeno quando ero molto giovane, perché continuavo a chiedere ma cosa vogliono a me, cosa vogliono sapere. Quindi cercavo sempre degli scavotage per scappare. Finite le partite, soprattutto a Perugia, che ero molto molto giovane, cercavo sempre le uscite di sicurezza per poter… facevo dei giri incredibili intorno al palazzetto per non farmi beccare. Sì, ero particolare. Dopo ho imparato, insomma, a affrontarli. Ma a te eri particolarmente simpatico, perché poi avevo quelli simpatici, quelli che non volevo neanche vederli, cioè, zero. Grazie, ma che carina. Ti faccio rivedere Sbarba. Ah, lì siamo a Nazionale ed è un periodo fantastico, perché mi ricordo perfettamente eravamo con Angelo Frigoni, erano gli anni in cui poi piano piano siamo diventate veramente forti e lì facevo un gran casino, perché io sono stata la capitana. Una giamburrasca. Allora, Perugia innanzitutto vai, sei ragazzina, veramente, sei giovanissima, si parla benissimo di te, il ragazzetto diventerà fortissimo, ti allena Bernardinho, perciò non è che ti ha allenato uno qualunque, vinci la Coppa Italia nel 92 assolutamente conto pronostico, si inizia a parlare di te, riflettori puntati addosso, eccoci qua, Mau, il punto. Da chi rifuggiva la telecamera a una vita sotto i riflettori come la tua. Come si fa a convivere con i riflettori? Io devo essere sincera, quando è scoppiato, diciamo, tutto il grande amore per la pallavolo e quindi la grande attenzione su di noi, è vero che io ero sempre presa di mira, anche perché io davo molto da parlare, sia in campo che fuori. Però, devo essere sincera, il fatto di rimanere tra i miei pareti, nel senso in palestra, allenandomi, tieni conto che col club ero sempre impegnata, con la nazionale non se ne parla perché eravamo sempre all'estero, quindi bene o male non mi sono mai resa conto di tutto questo, me ne sono resa conto forse più quando ho smesso, perché mi sono resa conto lavorando nel mio mondo che tante persone hanno tipato per noi, ma fino a quel momento sei talmente concentrato sulla tua vita sportiva che non ci fai tanto caso. Io non ci facevo tanto caso, vivevo molto serenamente. Adesso ti faccio vedere un'altra versione, questa immagine è molto bella, non perché le altre non lo fossero, perché ho scelto delle immagini un po' particolari. Quella è una sfilata per Laura Biagiotti, se non sbaglio, quando abbiamo finito l'Olimpiadi a Sydney, ricordo, sì. La tua prima Olimpiade è la prima per la pallavolo femminile italiana nella storia. Sì, è stata un'Olimpiade storica, perché fino a quel momento ben ricorderai che passavano soltanto i fenomeni, gli uomini, quindi tutti noi ci ricordavano che gli uomini avevano una marcia in più e noi invece eravamo la squadra materasso. Invece siamo riusciti a qualificarci al torneo dell'ultima spiaggia, ricordo, a Tokyo. Però siamo stati veramente brave, perché abbiamo fatto un passaggio importante per il movimento, per tutti. La federazione pallavolo non so quanto sia rimasta, cioè è rimasta secondo me sconvolta, perché non si era mai qualificata l'Italia, quindi abbiamo dato un bel segnale. E da lì non ci siamo più fermate. Dicono genio e sregolatezza. Chi era Maurizio Cacciatori, la giocatrice? Chi era? Eri più genio e più sregolatezza? Secondo me, fra l'altro, io devo dire anche, posso dirlo io, dopo parli tu, classe, temperamento e grande agilità. Io ti vedevo fare la ruota e il riscaldamento, che mi ha sempre colpito molto questo. Guarda, io sono sempre stata molto libera e anche tanto coraggiosa. Quindi queste soft skills, queste caratteristiche sono state a volte viste come il fatto di essere sregolata. Invece non lo ero, perché se tieni conto che da sei anni iniziare a lavorare in quel mondo di fronte a regole e comunque in team molto esigenti, non puoi essere sregolata. Tra l'altro io non ero una persona che aveva una vita fuori dalla palestra folle per quanto riguarda gli orari, la limitazione. Sono sempre stata molto tranquilla. Ecco, io ero folle nel modo forse di comunicare e di esprimersi, perché se c'era qualcosa che non mi quadrava, io non stavo zitta. Non mi sembrava giusto, no? Io credo sempre, ancora oggi, che è giusto esprimere le nostre opinioni. E sai, in quel momento lì non era visto molto bene, no? Bisogna sempre dire, ok, questo è giusto, ok, questo non è giusto. Invece io parlavo. E a volte parlavo anche troppo. Però, insomma, sono sempre stata così. Quindi mi hanno sempre detto che ero l'avvocato delle cause perse, perché io parlavo anche per le altre. E a volte mi dicevano, fatti i cavoli tuoi. Era vero, era vero. Però non sono mai stata la vita. Ti salutano in tantissimi e hai lasciato ricordi meravigliosi, ma sei una donna copertina, perciò sei una donna di grande visibilità. Ti faccio vedere, a proposito di visibilità, una cosa, perché è stata la prima volta in cui si è parlato nello sport del lato B. Mau. Ma sì, ma anche quelle foto lì, guarda, io ero angosciata. Continuano a fare le foto. Ci fu un interbellante parlamentare per una partita della RAI fatta a Reggio Emilia, perché c'erano troppe le telecamere in una parte particolare del tuo corpo, che è il lato B. Adesso si chiama così, a volte. Allora si chiamava in un'altra maniera. Sì, tra l'altro ci fu anche un caso, non so se ti ricordi, venne un cameraman che durante la partita mi stava inquadrando proprio il lato B. E io li vedi, non lo spostai ferocemente. E lì nacque un caso, perché non so cosa era successo, ma io finisco sempre sui giornali per fare cose. Ma hai fatto un po' di tutti i colori. Ti devo fare una domanda sull'isola dei famosi, perché io e te ne abbiamo parlato, ci sei andato nel 2006, ma vorrei che tu svelassi la verità a chi ci sta ascoltando adesso, gli amici della Pallavoro. Si mangiava sì o no l'isola dei famosi? No, ma guarda, questa domanda qui mi continuano a fare, ma la gente torna che è sfinita proprio. Non si mangiava assolutamente. È vero che c'erano dei premi, quando eravamo proprio durante il gioco, che eravamo veramente stanchissimi, dei premi un pochino più succulenti. Quindi bene o male potevi un attimino reggere meglio. Però sostanzialmente dovevi... Tra l'altro era un'edizione che noi dovevamo cacciare il cibo, non avevamo delle scorte settimanali. Quindi avevamo il buon Ceccherini, che pescava come un pazzo. Poi quando l'hanno mandato via è stato un problema. Però insomma non si mangia, assolutamente. Non si mangia. Quanto sei dimagrita lì? Ma non mi ricordo tanto. So soltanto che quando mi sono specchiata ero impaurita, perché poi davvero invecchi terribilmente. Poi c'è sempre il sale del volto, non riesci a lavarti per bene. Cioè ero molto provata. Però è stata un'esperienza bellissima, perché io volevo mettermi in gioco in qualcosa di differente. E devo dire che ho fatto squadra, non ho patito tanto lo stare dentro un gruppo. Ho patito il fatto di non mangiare e comunque le giornate erano davvero pesanti. Direi di sì. Sì, innanzitutto ti salutano in tantissime. Quando giocavo tu eri un esempio per me. Sentivi questa responsabilità? Cioè tu eri la cacciatore, tanti riflettori puntati addosso, anche al di fuori di un campo, di pallavolo, ma anche dentro un campo. Cioè tu dovevi essere comunque un esempio per le giovani che anche approcciavano questo sport. Sentivi questa responsabilità? Quello l'ho sempre sentito, tant'è vero che tutte le partite, da vinte o perse, non mi dimenticavo mai di andare dai bambini. Mi piacevano tanto i bambini, ma tutti i tifosi. Quindi la partita durava magari un'ora e poi c'era un'ora in cui io stavo sempre dentro al palazzetto a firmare a tutti i tifosi, perché secondo me era importante, no? E vedevo i genitori con i loro figli che mi chiedevano le foto. Quindi prima tutti gli autobici, poi tutte le foto. Era più stancante il dopo che il durante, praticamente. Ti hanno visto il festival dello sport che si chiama la Pici, il miglior compleanno di sempre che hai regalato. Ieri abbiamo parlato appunto con la Francesca. Che effetto ti fa essere stata l'emblema di questo sport? Cioè tu e la Pici Lini a un certo punto, ma posso dirlo per certi versi ancora oggi, siete l'emblema, le icone della pallavolo. Che effetto ti fa, Mau? Non ci penso più di tanto. Mi fa solo che è gran piacere, ecco, perché comunque, anche se abbiamo smesso, comunque Francesca ancora non so se ha smesso o no, continuiamo a contaminare l'ambiente di pallavolo. E quindi mi rendo molto orgogliosa, molto orgogliosa, ed è per questo che penso di non essere mai andata via dal campo, perché ogni cosa che faccio, anche quotidiana, mi porta a ricordare di essere la capitale nazionale. È una sorta di responsabilità che io poi ho in casa, come bimbi, in famiglia. E quindi quando si parla di pallavolo e vengo nominata, devo sempre comunque essere felice e ne sono particolarmente felice. I fan di Via... Ah, mi sono i fan della Via Rosetta. Un abbraccio a tutti i fan di Via Rosetta. Perché Via Rosetta era la via dove abitavo a Veneto, che praticamente erano tutti terrorizzati, perché io facevo tutto in contromano. E passeggiavo dove volevo. Avevo una situazione davvero folle e ricordo quanto mi volessero bene. Andavo la mattina in questo bar, dove c'erano un sacco di pensionati, che mi dicevano, cacciatori, bevi un biccerin di vino. E io dico, ragazzi, va bene tutto, però io devo andarmi a allenare. Se iniziamo così, il campionato non lo finisco. E poi mi fermavo a giocare a carte con loro. Cioè, io mi sono sempre nutrita delle persone che vivevano nella mia città, che erano anche al di fuori del mio ambito. Quindi mi piaceva tanto conoscerle. Guarda che... Dall'accanto non l'avevo capito. Si è messa a ridere. Qui ci sono la Wendy. Salutala. Salutala, Wendy. La Wendy Buffon. Ma io la Wendy... E chi c'è dietro? Guarda chi è arrivato. Ciao, Carlos Maria. Ciao, ciao. C'è Carlos. C'è il grande Carlos. Dani. Grande. E' brava la mamma? Eh? E' brava la mamma? Bravissima. Ma è vero che giochi a calcio e non giochi a pallavolo? Certo. Mau, spiega. Spiega. Allora, ha un palleggio fantastico, Carlos. Ma poi, tu vedi, siccome ha giocato anche il bici volley, guarda, secondo me è più un bici che un giocatore del Dore. Però lui ama, ma Empoli, perché è il portierino dell'Empoli, insieme alla sua squadra, quindi lui ama fare il portiere, quindi mi tocca soffrire come una pazza. Perché ho fregato così e seguire questa squadra di calcio. Però sono contenta, perché lui è molto motivato, è un bimbino bello tosto, duro come non so che, quando perde sono tragedie, però insomma è bello, è un bel bimbino. Bravo. Ma chissà come mai è venuto fuori così, conoscendo te e Francesco. Non lo so, adesso, dopo ci penso, dopo ci penso. Allora, ha detto che non è la Wendy Buffon, ma è la Gwendolyn. Gwendolyn? Vabbè, insomma, anche se fosse Gwendolyn, noi saremmo Gwendolyn Buffon, che è forse la mia più cara amica. Dai. Allora, Mau, ti faccio vedere, nel tuo libro, il vero senso di appartenenza vale di più di qualsiasi medaglia al collo. Traduci. Allora, la traduzione è molto semplice, perché è vero che nella mia vita io ho vinto tantissimi trofei, ho più di 200 presenze nazionali, però credo che la grande eredità che la pallavolo mi abbia dato non siano nelle copertate, ma nei valori, no, che ho allenato. Nei valori io intendo la capacità di fare squadra, di mettermi in gioco, di avere coraggio, di non tirarmi mai indietro, di gestire i momenti belli, come i momenti brutti, quindi tutte queste soft skills sono nel mio DNA. E quando io ho smesso di giocare, non mi ero accorta che avevo allenato con il palleggio o la difesa, ma avevo allenato con queste caratteristiche che sono utilissime nella vita che facciamo noi. la storia di questo meraviglioso sport, le tue presenze nazionali, Mauro, sono 228, dopo arriviamo alla nazionale, ti faccio vedere un'altra fotografia e poi vi racconto cosa è successo l'anno in cui, gli anni in cui commentava con noi la Mauro. Allora, questo è un omaggio floreale, ne avrai ricevuti nella tua vita un miliardo e mezzo. Devo dirvi una cosa, poi dopo tu ci parli del rapporto con i tifosi. per due anni andavamo in giro a commentare le partite di pallavolo con la Maurizia di campionato femminile all'allora Sky Sport e la Mauro trovava, ve lo dico io perché lo vedevo, un mazzo di fiori ovunque andassimo, in tutte le parti d'Italia. Devo dirvi, senza bigliettare. rose rosse in tutta Italia e non era tuo marito che te le mandava. Il tuo rapporto con i tifosi, sei sempre stata un idolo, ma non solo della parte maschile che troverebbe anche una certa giustificazione da un certo punto di vista. Sì, ho sempre avuto un rapporto così forte perché fondamentalmente io mi indirivo delle persone perché la nostra vita, se ci pensi, è una vita molto in solitaria, ci alleniamo e poi torniamo a casa. Quindi io avevo bisogno di conoscere le persone della mia città. Il fatto è che io le conoscevo proprio bene perché ad Agrigento, ad esempio, ogni giorno erano abitate in una casa differente, a Napoli è successo uguale, a Bergamo non se ne parla. Cioè a me piaceva proprio conoscerle, ma non superficialmente, personalmente, quindi se avevo modo di poterle frequentare, ma persone che non c'entravano nulla con me, persone anziane, bambini, tifosi. C'è stato un ragazzino, Alessandro, non so se ti ricordi, che entrò in coma a Bergamo, era un ragazzino di Bergamo, entrò in coma e era un ragazzino di Bergamo, ora non più un ragazzino, un uomo di Bergamo e ai tempi era un tifoso della Foppa Pedretti. Ricordo che mi chiamarono dalla segreteria di Bergamo per dirmi che questo ragazzino aveva fatto il mio nome e io andai da lui e lui uscì dal coma, quindi fu qualcosa di incredibile. Io passavo il giovedì e il venerdì sera, ricordo, all'ospedale di Bergamo per fare una spania e ricordo che dopo un po' era abbastanza stancante, però non l'ho mai mollato e quindi questa cosa qui è una cosa che mi ha sempre caratterizzato, ma ancora adesso che non gioco a pallavolo, io non gioco più a pallavolo, mi piace molto conoscere le persone e soprattutto in quegli anni che c'erano davvero tante persone che mi hanno voluto bene, io non potevo tirarmi indietro. Salutiamo anche Néstor Lukacs che è in Argentina perché questo modo di vivere un po' strano, almeno fino ad oggi Mauro ci ha costretto a stare tutti in casa, lontani fisicamente, ma vicini invece dal punto di vista del collegamento. Carlos, lo sai che la mamma ha giocato in nazionale? Te ne parla mai di quando vestiva la maglia dell'Italia? Sì? Sì, anche quando è stato all'Olimpiadi. Grande, grande Carlos. Quanti anni hai, Carlos, ormai? Nove. Ur cuccanna. Quando sei grande, cosa fai? L'altro Lorenzo bisogna salutare il cugino di Carlos che anche lui, Luigi, portiere dell'Empoli. Ragazzi, qui abbiamo un sacco di persone che ci stanno seguendo. Fantastico. Allora, ti faccio vedere la mamma. Allora, questo qui è il libro della Nazionale. Ci sei anche tu, Mau, ovviamente. C'è una tua testimonianza molto bella. 1998, mondiale, l'Italia arriva quinta, tu vieni premiata miglior alzatrice di quella manifestazione e scrivi un premio che mi ha cambiato la vita. Sì, mi ha cambiato la vita perché è stato un premio tra l'altro inaspettato ma abbiamo davvero giocato molto bene e quando sono ritornata in Italia mi sono resa conto che non ero più l'atleta di prima ma che avevo un peso, non un peso, una situazione che dovevo comunque mantenere. Se sei considerata la miglior palleggiatrice del mondiale devi giocare sempre come miglior palleggiatrice e quindi non potevo sbagliare nulla o perlomeno io dentro il mio sentivo che avevo alzato l'asticella e questo mi è servito molto, mi è servito molto perché ho continuato ad allenarmi e a cercare di perfezionarmi. Questo io lo devo molto ad Angelo Frigoni ma anche a Giulio Velasco che hanno cambiato molto l'identità della nazionale delle ragazze del volley. Quindi questa esigenza che prima di tutto deve arrivare da noi stessi. Noi siamo i migliori allenatori di noi stessi possiamo andare oltre ogni limite perché se ci pensi bene siamo noi quelli che pongono i limiti a noi stessi e quindi dobbiamo andare io ho fatto così ho vinto quel premio e per me è stata una grande responsabilità perché non puoi vincere un premio e poi giocare da cani ho vinto il premio e cercato sempre di tenere alta il livello. Ti credo che Carlo ti assomiglia moltissimo è vero, è vero. Sei bello come la mamma Carlo pensa che fortuna è un... Carlo è duro come la mamma perché oggi ho chiamato la mia mamma e gli ho chiesto mamma ma io quando ero piccola ti ascoltavo lei ha detto di sì perché oggi stavamo facendo inglese e lui vuole fare come riparare l'inglese facevamo le divisioni vuole fare come riparare le divisioni no perché la maestra mi dice di fare come dice io faccio come dice la maestra hai capito qual è e poi la mamma è troppo precisa hai capito qual è l'emergenza nell'emergenza fantastico allora ti faccio vedere così vediamo il capitolo nazionale poi abbiamo ancora qualche minuto da stare insieme piacevolmente tu in nazionale sei arrivato a seconda agli europei nel 99 cioè questi a Roma questi a Roma hai vinto il bronzo qui anzi scusa sei arrivato a seconda in Bulgaria nel 2001 hai vinto i giochi del Mediterraneo sempre nel 2001 la domanda che ti faccio in nazionale non hai vinto moltissimo o sei appagata ma io sono molto felice del mio percorso proprio pallavolissimo con la maglia della nazionale e senza in nazionale devo dire che non ho vinto tanto ma perché ho avuto un percorso abbastanza travaliato è andato un po' zig zag ma guarda tornarsi indietro lo ripeterei proprio in quel modo ricordo proprio anche a inizi quando c'era Marco Aurelio Motta che voleva andare a fare l'esame di maturità e lui mi disse che dovevo partire il pomeriggio prima dell'esame l'esame era la mattina e dovevo partire il pomeriggio prima e io invece volevo prepararmi un paio di giorni prima l'esame per bene come ho detto lui era molto precisa e ricordo che lui non ne voleva capire e io sono andata via ricordo sono sempre stata abbastanza tosta però la nazionale mi ha dato veramente tanto proprio per consapevolezza quindi a lei devo tanto della mia carriera ti faccio vedere un'immagine che ci riprende tu ovviamente sei in primo piano guardati qua allora qua siamo a Londra questa è l'olimpiade del 2012 adesso devo parlare io di te allora tutti no 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 devono sapere che io mi fidavo molto di Lorenzo e per arrivare al palazzetto ricordo che dovevamo ovviamente prendere la metropolitana a Londra e Lorenzo quando eravamo in metropolitana sbagliava tutte le fermate quindi se la partita era alle 4 noi eravamo capaci di arrivare alle 4 meno 10 quindi io ero sconvolta però mi sono divertita tantissimo e lui poi ha perso ti ricordi che ti ha perso anche la voce durante la partita nella tragedia però è stata davvero un'esperienza meravigliosa è stata bellissima insomma ci siamo divertiti molto devo dire che una sera abbiamo chiacchierato così a lungo che a un certo punto era finita la metropolitana non so dove siamo finiti parlavamo e poi guardavamo dove eravamo finiti e poi ti ricordi eravamo sempre a chiedere a tutti come le disperate dove siamo diciamo che è una bella accoppiata andare in giro ascolta Mau con il club hai vinto tantissimo 4 scudetti 4 Coppa Italia 3 Supercoppe 3 Champions League una Coppa Cev con Bergamo anni meravigliosi ma c'è stato un momento in cui tu hai dimostrato che avevi le palle cioè che eri una super giocatrice vai a Tenerife vai via lanci una sfida incredibile a te stessa vinci là il campionato la Coppa delle Regine e la Champions sì anche anche la scelta della Spagna è un'altra scelta coraggiosa che va oltre l'essere sportivo perché io devi sapere Lorenzo ho sempre voluto sfruttare l'offort come un'opportunità per tante cose che avevo in testa e uno dei miei sogni era quello di imparare bene lingue quindi io volevo andare in Spagna per imparare lo spagnolo prima di tutto questo lo posso dire a fine carriera la mia priorità era quello quindi ho imparato perfettamente lo spagnolo ed ero molto orgogliosa mi piaceva vivere una realtà diversa ho conosciuto un paese che mi rappresenta molto perché la Spagna è veramente un gran bel paese e fare l'esperienza da straniere nel club come quello di Tenerife che era un club molto blasonato però non aveva vinto ancora tantissimo a livello internazionale è stata una soddisfazione grande perché poi abbiamo vinto come hai detto te tutto ma è stata proprio l'esperienza di vita infatti io da lì ho iniziato a rimanere in Spagna e ho cambiato città perché adesso siamo quasi sempre a Palma di Mallorca dove ho giocato anche a Palma di Mallorca però ho conosciuto un paese che se non avesse avuto la palla a volo non mi avrebbe dato la possibilità di essere stato conosciuto e visto così bene sei soddisfatta della tua carriera Mau? moltissimo e anche del fatto di aver smesso presto perché io ho smesso presto ma perché sapevo che tutto doveva avere un inizio e una fine quindi prima smettevo e prima potevo riaprire il mio nuovo ciclo prima potevo avere anche Carlos e Ines che ora sta studiando lì in sala cosa studia? ah c'è una domanda di Carlos sei un bravo come manager sei un bravo manager cioè come ti piace come giornalista? mi piace molto mi piace molto se sono bravo non lo so devono dirlo gli altri ma mi piace molto sei bravo sei tutto sulla mamma lo conosco da quando era alta come te hai capito guarda Italo Vullo tra l'altro ti saluta saluto a grande titolo e a tutta massa e anche Carlos ti faccio le ultime due domande allora la prima riguarda il futuro della nazionale qui ci sono due ragazze molto forti la danese l'abbiamo sentita ieri è stata molto brava e simpatica l'altra è Legono forse oggi è il numero uno al mondo e parliamo insomma di un ambiente molto competitivo perché di schiazzatrici forti nel mondo ci sono come avete il futuro della nazionale italiana della pallavolo femminile Mau lo vedo Rosio è una nazionale che mi piace è una nazionale di protagoniste mi piace molto il lavoro del tecnico dello staff tecnico mi piacciono sono le ragioni che sono giovani che si mettono e sono davvero molto molto forti detto bene Legono tutte le atlete sono giovani ma hanno un potenziale incredibile peccato per questa olimpiade perché secondo me sarebbe stata un'olimpiade di belle medaglie però ci rifaremo il prossimo anno chi lo sa è una bella realtà e hanno una grande eredità quella di far conoscere ancora di più ed entrare nelle cani italiane perché commentarle vederle e seguire le loro partite è davvero una grande soddisfazione ma io non lo dico solo nel femminile lo dico anche nel maschile io sono molto orgogliosa dei due staff nazionali perché secondo me sono davvero il top Allora Carlo dicono che hai una bella maglia ma è più bella quella dell'Empoli ho letto è un commento che è arrivato Mau ti hanno chiesto all'inizio ma l'ho tenuto in fondo la domanda e poi è uno che riguarda il futuro dei nostri figli dei tuoi figli alleneresti mai hai mai pensato di fare l'allenatrice? No no perché in questo momento io ho smesso di giocare lavoro nel mondo della comunicazione sono spesso via però la mia priorità sono i miei bambini quindi dover allenare per me è togliere qualcosa ai miei figli e non lo farei bene perché quando fai l'allenatore devi essere H24 a disposizione della squadra e io in questo momento della mia vita voglio essere H24 a disposizione loro che mi fanno venire un esaurimento però è il motivo giusto per cui adesso sto vivendo tutti i miei giorni in realtà hai detto che avevi un gran palleggio lo faccio rivedere perché stilisticamente è rivieramente perfetta qual è la palleggiatrice che ti piace di più ti chiede adesso Gianpaolo di oggi a me mi piace molto la Boloch e poi mi piace ovviamente la Malinov mi piace molto la Malinov perché poi ha un passato che conosco perfettamente so che è nata nei palazzetti e mi piace molto come gioca è giovane quindi è normale che debba ancora crescere tanto però mi piace molto così come la Oro io sono molto tifosa delle giovani palleggiatrici perché mi piace vederle all'opera mi piace vedere quando sbagliano perché so perfettamente perché hanno sbagliato perché una palleggiatrice cresce negli anni non è come negli altri ruoli quindi sono una grandissima estima Oro che ci ha confermato ieri la Danesi che va a Monza concordo con chi ha scritto quando senti parlare i campioni capisci molte cose faccio vedere un'ultima immagine la faccio vedere anche a Carlos perché questa non l'hai mai vista Carlos questo sei tu prima di nascere con il papà quello dentro la pancina sei tu e guarda il titolo per mio figlio ho messo la testa a posto e la domanda che ti faccio Mau è alla luce di quello che stiamo vivendo che futuro ti immagini per i tuoi e i nostri figli dunque io l'ho detto tante volte stare in casa anche un anno forse per me però i miei figli no questa situazione questo distanziamento sociale è stato molto forte però sulla mia pelle può passare il fatto che loro non abbiano una possibilità adesso di allenarsi di andare a scuola di poter vivere la vita che avevano prima mi fa molto male e da madre te lo dico sinceramente è tosta però ho parlato con loro ho detto che è un momento della loro vita e che li farà più forti e più e più decisi mi piacerebbe vederli correre tutti insieme mi piacerebbe mi piacerebbe ridargli quello che in questi due mesi non hanno avuto so che ci vorrà molto tempo però la mamma è ottimista e poi sa che i loro bimbi non mollano quindi prima o poi ritorneremo certo è che in questo momento per me la sconfitta più grande sono i miei figli i miei figli che mi hanno maus maus sei veramente speciale ti conosco da quando eri grande come carlos e ti apprezzo sempre di più è stato un piacere stare con te oggi ciao carlos ciao 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 saluta mille se dai un abbraccio grande a francesco io non ho detto niente per non avere più la vita non ti preoccupare i commenti sono stati tutti positivi maus stai tranquilla e l'intervista con la maula potete rivedere ovviamente su dallarevole.com come tutte le chiacchierate bellissime che abbiamo fatto a 360 con tutti i campioni che ti hanno preceduto e anche con Dragan Travisa che sta arrivando ciao maus ciao carlos saluta le Dragan ciao 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 grazie ciao ciao allora adesso salutiamo la Maurizia che è stata veramente speciale e andiamo da un grande giocatore che trovo con con grande piacere con lui è una persona profonda non è una persona banale non mi piacciono le persone banali e perciò mi piace molto da sempre da quando ti conosco altro come carlos Dragan Travis ciao ciao Lorenzo ciao a tutti mi stavo seguendo ciao anche a Maurizia ecco allora noi facciamo una chiacchierata come vedi non abbiamo preparato niente perciò andiamo andiamo a ruota libera parto dalla frase che c'è nel tuo profilo Whatsapp che ho visto l'altro giorno perché avevo perso il tuo telefonino e parafrasando un film premio Oscar scrivi la vita è bella sì è un po' il mio motto ce l'ho da quando ho Whatsapp credo ho anche la sveglia metto l'orario e la didascalia la vita è bella ma perché credo che la vita sia bella mi ricorda sempre insomma di prenderla con leggerezza col sorriso anche quando soprattutto quando ci sono momenti magari un po' più complicati la vita è bella basta bravo sono soprattutto in questo momento allora fatti vedere tutto perché sai anche io faccio guarda non mi vedi la fronte vero bravo voglio vederti tutto meglio così non si vede la stempiata capito guarda che tanto ti saluto tua sorella abbiamo sentito grande ciao Michela Christian che ci ha detto in anteprima che avrebbe smesso perciò insomma sono state chiacchierate molto bene tu sei il numero 54 last but not least direbbero gli inglesi beh io lo parlo italiano per quello che so parlare state molto intime molto belle state chiacchierate che sono andate oltre quella che è diciamo così la versione ufficiale che vi riguarda io ti faccio vedere dopo non so se hai preparato degli oggetti intanto io ti faccio vedere la prima foto che ti riguarda pronti via vai pronto grande senza barba pulito non come me che sono un po' più rude chi è questo eh mio papà mio papà Yugo Mir Traviza Yugo Mir Traviza il mio vecchio il mio vecchione sono emozionato anche nel guardarlo eh guarda con la bocca aperta quello lì è Lucchetta senza cresta eh lì infatti non lo riconosco perché è senza cresta guardalo Lucchetta Kimo Chul visto che parliamo di grandi collegatori e Gianni Lanfranco questa è una foto meravigliosa allora la partenza è da quando sei nato cioè abbiamo fatto vedere la pancia di 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 Maurizio e Carlos tu da quando sei nato senti parlare di volleyball in casa eh sì sì io sono sono nato in una palestra insieme a mia sorella andavamo sempre agli allenamenti di di mio papà e poi mia sorella ha preferito studiare io invece ho continuato a dare schiacciate al pallone e sì abbiamo sempre vissuto in casa lo sport soprattutto la pallavolo ma credo che sia stato un po' una un nostro mantra allo sport in generale e durante le partite prima delle partite sue quando andavamo a trovarlo nei weekend perché ovviamente io e mia sorella andavamo a scuola andavamo a trovare insieme a mia mamma il papà diciamo dove dove allenava e facciavamo le nostre trasferte in treno io odiavo il treno perché volevo la macchina volevo la musica il treno lo odiavo ma ovviamente andavamo a trovarlo e la domenica mattina nell'allenamento di rifinitura mi portava con lui io facevo raccato a palle e poi 5 minuti alla fine dell'allenamento me li dedicavo facevamo un po' di pallacopie mi insegnava come battere in salto già a 8-9 anni e quindi sì nel sangue c'è sempre stato il pallone soprattutto quello da pallavolo ed è sicuramente stato un po' anche quello che mi ha insegnato che mi ha dato un po' la mia base i miei valori i miei obiettivi nella vita allora ti arrivano dei saluti in questo mondo globale ormai siamo tutti connessi H24 anche dall'Iran perciò siccome noi andiamo a livello della casualità grande passioni in Iran sono pazzi di passioni in Iran bravo ecco dici allora la tua esperienza iraniana è stata un'esperienza è vero è vero è vero è stata un'esperienza molto forte molto originale nel contesto in cui siamo abituati a vivere la pallavolo intanto un paese che vive piange soffre per la pallavolo se qua spesso piangiamo viviamo per il calcio la pallavolo lì è veramente lo sport numero uno prima delle partite ci aspettavano 6-7 mila persone al palazzetto nel palazzetto potevano entrare 4.500 massimo 5.000 persone ma le persone che rimanevano fuori restavano lì restavano nel parcheggio e sentivamo da fuori urlare anche loro quindi c'era un'atmosfera pazzesca anche quando andavamo in trasferta era veramente lasciatemi passare il termine pauroso giocare in Iran perché un po' perché sono tutti maschi quindi non ci sono donne purtroppo nei palazzetti e quindi il tifo è molto rumoroso a volte un po' aggressivo però hanno una passione sconsiderata a parte questo l'esperienza non è andata bene perché non ci pagarono una lira e noi a dicembre ci prendemmo il passaporto e fuggimo a casa però è stata un'esperienza dura anche dal punto di vista insomma caratteriale perché hanno una mentalità una cultura completamente diversa dalla nostra anche a spiegarla faccio fatica perché mi prendereste per matto però è stata tosta ha scritto Alberto Giuliani che c'è passione per la pallavolo come a San Severino Marche che è a casa sua mi fai vedere un primo oggetto poi ho visto una domanda che non è passata inosservata poi vediamo perché tanto sai che noi allora io ti faccio ti faccio vedere questa credo non l'ha fatta vedere nessuna questa è la mia prima medaglia giochi della gioventù giochi della gioventù facevi 400 metri sono stato sempre molto bravo nella corsa campestre nella resistenza e quindi feci questa gara a livello provinciale perché mi ero qualificato per le selezioni provinciali e feci 400 metri e mi ricordo che arrivai secondo e c'era mio papà sugli spalti quindi ero molto emozionato e quando finì la gara capì un po' di cose uno che mio papà mi dava un po' di pressione un po' d'ansia ma non perché me la mettesse lui ma perché io volevo che i miei genitori che mio papà dato che è sempre stato uno sportivo fosse orgoglioso delle mie gesta poi la fatica ho fatto una fatica per arrivare al traguardo che mi viene da piangere solo se ci ripenso quindi lo sport è fatica e poi arrivai secondo e quindi rimase in me lo stimolo di superare quel gradino di arrivare primo credo che quel giorno lì mi ha segnato in positivo in negativo tra virgolette però è stato un trampolino di lancio e conservo questa medaglia forse sono più legato a questa medaglia magari di tante altre che sono state nella mia carriera più importanti ecco a livello mediatico dopo te ne faccio vedere uno in foto perché ovviamente le conservi tu visto che ti salutano con grande affetto da Padova io faccio vedere questa foto che ti deprae grande vedi io ho la barba mio papà no porca miseria io sono proprio più incolto allora hai parlato innanzitutto che davi due pallone schiacciavo il pallone sì all'inizio schiacciavo esatto sei diventato un palleggiatore atipico perché sei due metri perciò voglio dire hai il fisico hai avuto una carriera molto particolare adesso andiamo a prendere pizzichi e bocconi poi arrivi a Padova è stato il rilancio eh Dragan a un certo punto sì Padova è stato il Dragan 2.0 sono finite le esperienze all'estero con con la fine negativa diciamo dell'esperienza iraniana mi ritrovai a Padova dove vivo da una vita ho fatto le scuole gli amici di infanzia a casa mia e iniziai sì casa mia e iniziai ad allenarmi con il gentil permesso di Baldovina e di Santuz quindi della società di Pallavolo Padova che mi mi accolse e semplicemente mi diede la possibilità di tenermi un po' in forma con quella squadra lì quindi insomma mi allenai un po' con loro scoprì subito di avere grande empatia grande chimica con Valero Baldovina che fu il mio che è stato poi l'allenatore per i tre anni successivi e iniziò una una chiacchierata molto informale con Santuzzi il direttore sportivo e mi guardai un po' intorno non trovavo delle grandi offerte diciamo stimolanti e decisi di cominciare questa questa avventura con Padova non pensavo sarebbe stata addirittura triennale perché è il mio record non sono mai stato tre anni di fila in una squadra è stata un'esperienza nuova ma bellissima piena di piena di emozioni forse ho riscoperto un lato di me che prima non avevo non pensavo di avere mi sono divertito tantissimo ho scoperto la bellezza di questo sport e abbiamo raggiunto obiettivi bellissimi ma la vittoria più bella è stata veramente aver avuto in tre anni un gruppo uno zoccolo duro di persone di giocatori con cui era veramente piacevole condividere la giornata l'allenamento il post allenamento i momenti spogliatoio quindi li porterò per sempre nel cuore concordo sul fatto che è un piacere sentirti parlare ma io ti conosco bene perciò lo sapevo come sarebbe stata la conversazione non ha scritto non vedo l'ora di vederti giocare a Perugia ma con questo qui finiamo quello che vuoi spoiler io ti faccio vedere perché in queste giornate qui ci sono state delle chiacchierate incredibili cioè ma perché tu sei bravo tu sei una persona di cuore sì invece non ti vuoi di leccare il sedere ma sei bravo metti a proprio agio le persone ma no ma ci conosciamo bene è una chiacchierata che facciamo perciò l'altro giorno Renan ha spiegato come ha preso il pallone in mano al mondiale c'è una roba che un altro lo vedete scusi cosa stai parlando Bruno ci ha parlato di cose inimmaginabili chi va sempre sa piangere quando abbiamo parlato di termenze insomma sono state quelle chiacchierate molto belle guarda questa foto guarda io avevo il mio secondo elemento te lo te lo annuncio perché è questo ed è la maglia della nazionale italiana e quella dell'olimpiade ce l'ho nel quadretto appeso insomma dove non riesco ad arrivare col cellulare con la medaglia proprio olimpica e la maglia dell'olimpiade sei qui londra 2012 medaglia di pronto bellissima con il grande dante boninfante il mio compagno di ruolo è stato un grandissimo compagno che ha ovviamente fatto parte di un gruppo quello di londra 2012 pazzesco un'esperienza boh è difficile da spiegare forse per per chi pensa che l'olimpiade è solo bella posso stupire dicendo che non è solo bella è anche brutta perché in 15-20 giorni c'è un turbine di emozioni forse perché si è all'interno di un villaggio con solo e tutti i sportivi che competono quindi che soffrono hanno l'ansia della prestazione vincono perdono e quindi ti fai un po' coinvolgere da questa energia capita che vai a mensa sei felice finisci di mangiare sei incazzato vai a fare un allenamento fatto bene e sei felice pensi di poter vincere l'olimpiade fai un allenamento fatto male o il viaggio è troppo lungo perché c'è troppo traffico arrivare al palazzetto ti prende la depressione quindi è stato un viaggio completo formativo ovviamente meraviglioso perché è condiviso con un gruppo secondo me particolare e poi concluso bene perché abbiamo raggiunto secondo me il massimo possibile la medaglia di bronzo con un quarto di finale credo per la storia della nazionale italiana storico e ancora guardo delle immagini e mi emoziona tantissimo mi ricordo qualche azione con Mastro che si destreggiò palleggiatore e mise a mura zero l'asco in quelle quarti di finale quando succese quello ho detto vabbè possiamo solo che vincere oggi è stato bello perché siamo partiti male noi fumo sempre una nazionale che giocava molto bene fino insomma all'europeo 2011 che perdiamo la finale ma giocavamo sempre molto bene a pallavolo quelle olimpiadi invece giocammo dall'inizio abbastanza male ci qualificamo come quarti quasi un po' per il rotto della cuffia al quarto di finale dove andammo a scontrarci contro la prima che erano gli Stati Uniti e non avevano mai perso forse un set avevano perso ed erano nel girone forte e facciamo questa dopo una chiacchierata inter nosi in uno spogliatoio convocati da Mauro Berruto ci fu insomma un confronto abbastanza aggressivo e ci fece ruppere il ghiaccio e andammo in campo e giocammo veramente una partita fenomenale dice Massimo lasciala fuori quella maglia che ti servirà ancora io te lo auguro non so se per fare giardinaggio o per giocare però va bene io me la tengo da parte vorrei chiudere il capitolo nazionale allora tu sei stato ho guardato 200 volte hai vestito la maglia azzurra che sono mica poche voglio dire eh no poi Londra ne abbiamo parlato Argento agli europei nel 2011 nel 2013 e poi è pronto alla World League è la Grand Champions Cup allora guarda qua io ti faccio vedere un momento bellissimo perché all'europeo si 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 è stato creato il miglior palleggiatore si mi ricordo bene Vienna 2011 insomma io ho guardato su questo libro che vi ritrae ho cercato un po' di momenti e poi mentre vado a vedere la tua testimonianza ti devo fare la domanda di cosa è successo a un certo punto con sta nazionale perché lo vogliono sapere tutti ah ormai ho rimuoso ma è successo ma non c'è nulla da nascondere c'era un ambiente un po' particolare c'era tanta tensione tra giocatore giocatori allenatori staff eccetera avevamo un giorno libero davanti e io da capitano chiesi un po' una serata per smollare un po' le tensioni per iniziare poi era sabato sera noi mercoledì avremmo dovuto iniziare la finale e quindi avevamo bisogno di staccare un po' la spina erano 20 giorni che eravamo in trasferta perché venivamo dalla Serbia poi siamo venuti in Brasile siamo rimasti in Brasile ad allenarci per fare le finali e volevamo andare a mangiare una pizza fondamentalmente a 500 metri c'era un ristorante che faceva la pizza e volevamo andare lì bere una birra e sparare due cavolate in compagnia finì un allenamento molto brutto e ci allenavamo male Mauro insomma ci vuole mettere un po' in riga dicendoci no non uscite noi un po' ribellandoci abbiamo detto insomma non siamo dei bambini ok ci si può capitare di allenarsi male ma siamo tutti qui per fare il massimo quindi un po' senza rispettare diciamo il decreto siamo usciti a mangiarci questa pizza e abbiamo fatto tardi poi in quattro ci siamo avventurati nel turismo siamo andati a vedere una scalinata a Santa Teresa dove fumo beccati bella bellissima bellissima ma ti giuro è stata veramente una passeggiata turistica eravamo in quattro abbiamo preso il nostro taxi ci siamo bevuti una caipirosca e abbiamo parlato con Ivan Giulio e Gigi che erano i quattro insomma i teppisti della nazionale abbiamo parlato di quello che stava succedendo delle difficoltà ci siamo confrontati e abbiamo detto ok andiamo mercoledì in campo spacchiamo il sedere a tutti quanti facciamo il massimo cerchiamo di portare a casa una medaglia poi quando torniamo in Italia cercheremo di metterci intorno a un tavolo e cercare di chiarire quello che non stava non c'era più il feeling di prima però eravamo ovviamente concentrati e sicuri di poter arrivare a prendere una medaglia fumo beccati il giorno dopo giustamente l'hanno detto a Mauro Mauro ci ha ci ha espulso siamo tornati a casa ammettendo insomma il nostro errore però credo che fu un errore secondo me un po' ci siamo arrivati a fare quell'errore credo che io non mi sento cioè mi sento in colpa per aver disatteso le ordinanze del mio allenatore ma non mi sento in colpa per quello che realmente ha portato a quella a quella mancanza di insomma di rispetto del regolamento poi niente è successo un po' un casino Mauro si è andato via io non sono stato più richiamato in quella riunione insomma sono dette un po' di cose e basta niente poi forse sono diventato vecchio e Simone è molto bravo quindi giustamente insomma il ciclo era finito e va bene così è stata dura il tempo è stata la medicina più più forte e poi insomma col tempo piano piano sono riuscito a passare quel momento ma ti ringrazio perché ne hai parlato con grande serenità e grande lucidità ma lo sapevo lo sapevo grazie allora ti faccio vedere l'unico scudetto che hai vinto in Italia perché cioè hai giocato 250 anni ormai anche un ragazzino hai vinto solo questo scudetto qua eh sì devo vincere un altro porca miseria sì ho vinto lo scudetto con la grande lube macerata di quei tempi bellissima questa foto con Igor Igor Omer c'è un grandissimo compagno di squadra che finì la sua grandissima carriera in Italia perché poi proseguì altri sette anni in Giappone con la lube mi ricordo che era un catorcio Igor non ce la faceva più era caviglia distrutta schiena e mi diceva sempre Drago io vinciamo sto scudetto ti prego perché basta non ce la faccio più non ce la faccio più fece vabbè a parte un anno spettacolare un uomo unico e vinse se lo meritò perché lui era un po' la bandiera di quella squadra e poi fece altri sette anni in Giappone a primeggiare ancora fu un grande gruppo con Christian il mio grande capitano il mio cognato il mio amico c'era Pot che è il mio amico coach Giuliani che ci fece diventare una squadra vincente e secondo me non eravamo i più forti perché Trento secondo me era più forte di noi e lo hanno dimostrato quasi sempre durante la stagione però quella finale era magica 2 a 0 sotto non potevamo perdere avevamo perso la Coppa Italia nella stessa maniera però a parte invertiti noi vincevamo 2 a 0 17 a 13 al terzo e perdiamo 3 a 2 quindi forse è stato il gioco del destino abbiamo continuato a giocare il destino si invertì e riuscimmo a vincere in una cornice pazzesca perché quel V-Day a Milano dovrebbero rifarne anche se eticamente si dice che la serie deve essere più lunga ma perché chi lo decide la finale così è stata bellissima forse era l'unico modo con cui noi potevamo vincere quello scudetto quindi porto acqua al mio mulino uno scudetto bellissimo anche per la proprietà per il presidente Giulianelli che da tanto in che inseguiva che gli mancava quello scudetto è stato bello bello eravamo tanti italiani era un po' lo stesso gruppo che poi faceva parte della nazionale mi ricordo che poi con Simone Parodi in pochi ci fermammo a Milano a festeggiare li autorizzati li autorizzati esatto era rompete le righe c'eravamo io e Simone Parodi e Giri Covar eravamo un po' i più giovani del gruppo io avevo la bandana la bandiera Italia con la tuta della lube macerata la medaglia tutta la notte e ci siamo divertiti abbiamo ballato bellissimo bellissima quella sera lì ti hanno scritto e qui bisogna che facciamo adesso un girettino Adalaga ti ha scritto vieni a vincere il secondo scudetto personale a Perugia e perciò facciamo un girettino tra i palleggiatori non ti faccio vedere quello che sto facendo sotto lo schermo però puoi immaginare forse ci arrivo ci arrivo sei solo abbastanza esperto allora stando ai si dice perché fino a che non ci sono le comunicazioni ufficiali allora Geteco va alla lube Baranovic va a Verona Spirito va a Monza Saitta va a Vibo parlo dei palleggiatori Ierezuelo torna a Piacenza e Travica va a Perugia cioè praticamente un gioco a scacchi Eh sì ma era un po' preventivabile che quest'anno ci fosse un po' il waltzer tanti palleggiatori erano sotto contratto tanti palleggiatori forti avrebbero finito il contratto quindi è normale che quando si muovono le prime tre quattro della classe si gira un po' gira un po' anche tutto il resto per quanto mi riguarda c'è una una grande possibilità che io vada a Perugia non è ancora ufficiale diciamo che questa trattativa è rimasta un po' sospesa perché ovviamente ci sono cose più importanti adesso a cui resistere però insomma credo che a breve ne riparleremo è una probabilità molto alta quindi ovviamente non c'è l'ufficialità e non si può dire niente perché non si sa mai soprattutto in tempi di coronavirus ma le voci sono vere sì Bene oh che bello mi piace parlare con le persone sincere oltre che ma perché se uno non ha niente da nascondere ma sì ma cosa cosa c'è di male mi dispiacerà nel caso in cui succedesse lasciare la mia città perché mi taglierei una mano per Padova però è vero anche che per me Perugia se fosse è una opportunità gigantesca e quindi da professionista da amante insomma del rischio e dell'ambizione di raggiungere un trofeo deve essere giustamente quello che guida un atleta quindi insomma 34 anni e avere una possibilità del genere devo esaminarla bene ma come drago 34 anni ma eri un bambino eh quasi madonna non ci posso credere 33 però ad agosto 34 allora abbiamo ancora qualche minuto perché sai che su Instagram si sta 59 minuti allora l'estienza del beach a Padova ti scrivono questa è la terza cosa che ti volevo mostrare è la maglia è la maglia della nostra scuola di beach volley Padova che voglio venire a vedere si vieni perché è un posto pazzesco adesso speriamo di riaprire tra poco ma oltre al beach volley Padova abbiamo un posto molto bello un oasi con un laghetto tanti alberi tanto verde quindi anche spazio per i bambini per un aperitivo musica abbiamo 4 campi da beach fra poco faremo 2 campi da paddola anche e altri 2 campi da beach all'esterno è un'attività che dura tutto l'anno 365 giorni all'anno escluso coronavirus col pallone presso statico che copre i campi d'inverno e li scopriamo poi con l'estate è stata una grande scommessa è partita con i miei due soci Davide Grigolone e Andrea Garghella un'altra grande conoscenza della pallavolo italiana certo te li saluto molto volentieri e sono stati vabbè loro sono molto bravi in quello che fanno e mi hanno coinvolto un po' iniziando da una base amichevole ed è nato questo sogno di trovare un posto per insomma lavorare insieme sull'ambito l'ambito sportivo che ci accomuna e abbiamo tutti e tre tre compiti diversi e tre caratteri anche diversi ma ci siamo trovati molto bene anche professionalmente parlando abbiamo istruttori meravigliosi che stanno lavorando nella giusta direzione per quanto riguarda gli amatori che si avvicinano a questo sport abbiamo tanti iscritti credo che gli iscritti siano tutti molto felici e desiderosi di ritornare una realtà nuova giovane ma secondo me stiamo facendo le cose fatte bene dai che domani qualcosa si muove Drago dai poi Zai ha parlato oggi e sembra che qualcosa si muova ma già il telefono di Biccivoli Padova sta scoppiando perché ci chiedono a noi ma noi prima di dire una cosa per un'altra aspettiamo il decreto ufficiale speriamo bene dai domani scatta la fase 2 e perciò adesso prima di farti l'ultima domanda dico anche che finiamo la fase 1 oggi anche per quanto riguarda le interviste sono molto contento di aver chiuso con te grazie grazie Lorenzo l'apprezzo il 9 di marzo ne abbiamo fatti 54 di chiacchierate così belle molto particolari con tanti campioni che sono gli amici della Polo è stato il nostro modo per stare insieme a quelli della Pallavola insomma per chiacchierare un po' sorridendo sempre sempre la vita è bella la vita è bella la vita è bella perciò io insomma ti ringrazio molto anche perché oggi hai arricchito molto la mia giornata è sicuramente di quelli che ci hanno anche tu anche tu perché a casa ci si annoia quindi parlare con una persona passionale come te competente come te è sempre bello era da un po' che non ci vedevamo era Bassano che c'era stato un amichevole ci siamo visti lì credo era un bel po' mannaggia a te che sei sparito un po' un po' così quello lì sì 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 al banco al mattino avere un caffè quello che ci siamo detti ci siamo detti io e te sì sì allora questo libro che io ho fatto che ho fatto vedere tante volte perché è il firrugge della nazionale ci sono i contributi di molti campioni tra cui tu e tu scrivi e mi fa piacere chiudere con questo le persone fanno le squadre e le imprese adesso hai parlato anche di impresa hai parlato di squadre io sono sono d'accordo con te al cento per cento sono anch'io ancora d'accordo con quelle parole che ho detto le persone e il cuore delle persone fanno la differenza e puoi avere il fisico di Lebron James puoi avere la mentalità del grande Kobe Bryant ma se non hai il cuore non diventi né Kobe Bryant né Lebron James quindi sì le persone fanno la differenza ieri o l'altro ieri che ho parlato con Christian Savani ieri l'altro ecco ieri l'altro e lui è una di quelle persone che per me gliel'ho scritto anche quando insomma ho letto anche se lo sapevo di ritiro di avere un grande cuore le persone con grande cuore si sentono si sentono subito e credo che le persone di grande cuore questo mondo ne ha bisogno e fanno la differenza poi si può vincere si può perdere si possono vincere medaglie trofei coppe ma se si fanno le cose col cuore anche se poi non si arriva a vincere una medaglia si lascia un segno quindi io sono una persona di cuore perché sono una persona emotiva mi emoziono facilmente sono sensibile anche se a volte lo do poco a vedere ma le cose che mi stanno a cuore mi resteranno sempre a cuore e lotterò sempre insomma col cuore grazie Drago allora sono state 54 storie bellissime non solo in Italia ma nel mondo siamo andati in Brasilia Stati Uniti Bulgaria Turchia andatevi a rivedere su dellarevole.com tutto quella di Ganev è imperdibile grande di ogni tipo che girava per il campo bravo torneremo la settimana prossima con qualche altra qualche altra storia da raccontarvi vi dico che vi faremo vedere Gardini Senior e Junior perché aspettiamo che Davide è tutti dagli Stati Uniti insomma abbiamo pronto ancora però solo sabato e domenica io ti lascio con questa immagine molto bella perché insomma questo è il podio di Bovo e il podio di Bovo anche e qui c'è tutto quello che significa la pallavolo nella sua potenzialità cioè quello che sa esprimere questo sport meraviglioso popolato da persone speciali come te Dragan grazie a te Lorenzo per dare voce a queste cose alla pallavolo sono molto contento di averti ritrovato oggi mi raccomando salutami tanto il papà non solo il papà tra la famiglia ma proprio direi il papà mi ha fatto sognare quando ero ben più giovane di te un bacione ciao a tutti grazie ciao buona pallavolo ed è il caso di dirlo Drago buona vita a tutti ciao 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 ciao